Wella ragazzi, ciao a tutti le nicchie raga, bentornati qui su CDS Skyline 2 Come sempre ragazzi inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione se può interessarvi raga trovate un link che vi permette di comprare questo e molti altri giochi scontati Vi ricordo anche che in descrizione ci trovate i miei canali social e ultima cosa raga, se non siete già iscritti al mio canale ovviamente vi invito a farlo e se lo fate Ricordatevi che potete anche attivare la campanellina così ricevete le notifiche ogni qualvolta carico nuovi video sul canale Allora ho appena finito di caricare la partita e questo è quello che mi è apparso Siamo arrivati all'obiettivo 7, ci hanno regalato 1.600.000 e vari punti da spendere Allora andiamo a vedere quindi che cosa potrei sbloccare Cioè tra un attimo però, intanto vi vado a ricordare che nello scorso gameplay ho praticamente installato questo pannello fotovoltaico Come dire, sì insomma questa stazione elettrica con i pannelli solari va Quindi stiamo a produrre un mucchio di energia elettrica che naturalmente risolve i nostri problemi per parecchio tempo Problemi elettrici non ne avremo per moltissimo tempo Allora vediamo un po' cosa potrei sbloccare con questi punti Ci stanno gli incroci però non mi servono Il parcheggio sotterraneo, no, per ora no Le autostrade non è una cattiva idea sbloccarle E le strade grandi pure, cominciamo a sbloccare queste Poi roba elettrica non mi serve Impianto trattamento delle acque Potrebbe non essere una cattiva idea Potrebbe non essere una cattiva idea Sblocchiamo anche questo Crematorio ospedale Beh Mi restano tre punti Scuola, università No ancora è presto Non abbiamo molta popolazione Caserma vigile del fuoco Municipio Non ho abbastanza punti Acqua Potrei sbloccare Praticamente Come si chiama Il traghetto Non lo so Potrebbe essere una cosa carina Manutenzione parchi Allora facciamo così Sblocchiamo le navi E sblocchiamo manutenzione parchi Ok Buono Allora vediamo un po' Perché mo' abbiamo sbloccato parecchie cose Dunque Nell'acqua abbiamo sbloccato il centro Impianto di trattamento delle acque reflue Quanti soldi guadagniamo al mese? Non tanti Perché praticamente Al posto Diciamo di inquinare L'acqua Potrei benissimo Lavorare l'acqua Con questo impianto di trattamento Il problema dell'impianto di trattamento E' che costa 90.000 Di crediti al mese Sono parecchi soldi 90.000 al mese Di mantenimento Mentre al momento Noi spendiamo 7.400 E 7.400 15.000 Spendiamo al momento 45.000 Potrei farlo Impianto di trattamento delle acque No aspetta L'impianto di trattamento delle acque Mi pare che Più che altro Mi risolve L'inquinamento Ok E allora facciamo così Risolviamo il problema dell'inquinamento Ok Risolviamo il problema dell'inquinamento Allora Impianto di trattamento delle acque E' un po' grossicello Questo coso Questo Affare Ok Lo piazziamo qua Raga Lo piazziamo qua E mo' lui In pratica Inizia A purificare L'acqua Lui purifica L'acqua E L'acqua Che purifica Torna indietro Come acqua Pulita Acqua Utilizzabile Quindi Se adesso io vado un attimino A guardare La situazione dell'acqua Vediamo che trattamento Liquami E Abnorme Quindi adesso posso Rimuovere Questi qui Che inquinano Ne tolgo uno E ancora va benissimo Tolgo l'altro E ancora va benissimo Quindi adesso non inquiniamo Più Perfetto Non inquiniamo Più In più Possiamo anche andare A Magari Spegnere Uno di questi due Così risparmiamo Sui costi Se io lo spengo Mi costa 740 al mese Per tre Vabbè comunque poco Se adesso vado a guardare L'acqua Diciamo che Ancora può andare Ma se vado un attimo Su servizi Acqua Ok Posso alzare un po' Questo Che è basso Perfetto Perfetto Ok mi basterà Alzare Fino al 100% Quello Comunque non abbiamo Problemi Con trattamento Liquame Per un bel po' Di tempo Il trattamento Liquame Non è un problema Per un po' Allora Allora quindi Abbiamo risolto Un po' L'inquinamento Dell'acqua Vogliamo andare A vedere Adesso Per le navi Diciamo La nave Porta turisti Ed esporta Ed esporta La nave Le merci Noi possiamo Esportare le merci Tramite gomma Quindi tramite Camion Con l'autostrada Oppure Oppure tramite Le navi Anche Noi al momento Produciamo Tantissimo Grano E legna E potremmo Ancora Produrre Molte altre cose Volendo Ancora Molte altre cose Bene i materiali Vediamo un po' Allora Noi Abbiamo Anche Molti Metalli Che possiamo Esportare Acciaio Da esportare Minerali Cemento Questa è tutta roba Che abbiamo In più E che possiamo Vendere Noi Importiamo Prodotti Chimici Molti Prodotti Chimici Importiamo Noi importiamo Tutto questo Noi produciamo Anche bevande E cibi Però non Abbastanza Produciamo Mobili Troppi E non Ne consumiamo Quindi sono Tutti Da esportare Poi Anche Beni Immateriali Quindi Media Pasti Intrattenimento Beh questa mica Questa mica è roba da esportare Questa è roba per consumatori Servizi finanziari Non ne abbiamo Telecomunicazioni Non ne abbiamo Non abbiamo software Allora per quanto riguarda le telecomunicazioni Dovrebbe trovarsi qua dentro In pratica abbiamo questa torre di trasmissione Questa dovrebbe risolvere il problema delle trasmissioni che non abbiamo Ne dovrei mettere due Mi costa 5.000 dollari al mese Però va bene dai Uno E un altro Lo dovrei mettere qua Così vado a coprire Questa parte della città E una la dovrei mettere qua Nella zona industriale Perché l'internet serve anche dove si lavora Bene E quindi abbiamo In piccola parte Risolto il problema Delle telecomunicazioni Ora poi ci avevamo La questione Deposito Manutenzione Parchi Però costa parecchi soldi E mi pare che Parchi Noi ne abbiamo Ancora veramente Pochissimi Anzi Non stiamo neanche a coprire Non stiamo a coprire Granché con i parchi Che poi sti parchi Non coprono un bel niente Ecco Questo copre un po' Madonna Mi ha fatto spaventare Sti caspita Di obiettivi Di Xbox Non riesco a farlo Entrare qua Ok qua Abbiamo un gran bel parco Un altro Quasi quasi Lo piazzerei qua E poi qua C'era quel problema Sapete No quel problema Lì Ok Questo è quello Che posso fare Sto mettendo Un po' Di parchi In più E deposito Manutenzione Parchi Ma Mi costo Troppi soldi E già siamo In perdita Tassazione Già le tasse Sono parecchie Elevate Allora Dobbiamo fare Una cosa Noi Qui vedo Che c'è Molta richiesta Di case E di tutta Questa roba Qua Quindi Mi pare Che mi dovevo Allargare Da queste parti Un pochino Per le case Però abbiamo Un problema Serio Che già Qui È troppo Incasinato Figuriamoci Se faccio Un mucchio Di case Qua Con una sola Strada Una sola Strada Questa qua Non va bene Piccola Allora Qui ci vuole Una bella Rotonda Se no Sto traffico Non scorre Più Qui abbiamo Il mega Problema Ecco Già con la rotonda Un pochettino Il traffico Scorre meglio Però Ancora Non è che Proprio Il top Non è proprio Il top Ahimè Ma almeno Scorre un po' Meglio Quindi Qui mi pare Che c'è Il problema Dell'inquinamento Non ne vogliono Proprio sapere Delle case Qua Qui case Proprio Non ne vogliono Sapere Un grosso Problema Ci vorrà Tempo Prima che Quella zona Torna Essere Una zona Decente Allora Vogliono Case Medie Poche Quindi Potrei Aggiornare Queste Le famo Diventare Case Medie E dobbiamo Risolvere Tutto E niente Mi serve Una zona Mi serve Una zona Che possiamo Espandere Questa strada Mi sa che conviene Subito Allargarla Strade Grandi Perché Praticamente Se devo Fare Allora Questa qua La cancelliamo A che serve Bene Allora Almeno abbiamo Una strada Oddio Che è successo Problemi Eletti No Ok Perché ho Sistemato La strada Ok Sicuri Che abbiamo Aggiornato Tutto Se Allora Se vogliamo Fare Quindi Una nuova Zona Abitativa La andiamo A fare Ovviamente Aspetta Ma qui C'è un'altra Cosa No La dobbiamo Fare Da qua Ok Facciamo Quindi Tutta Una Bella Nuova Zona Abitativa No Lì Non ci Posso Arrivare Giusto Non Mi fa Fa Novanta Ok Ora Si Ok Caspiterina Qua Mi rimane Tutto Questo Spazio All'interno Vabbè Poi vediamo Cosa ci Possiamo Fare Allora Forse Forse Però Che Mi vado A creare Diciamo Delle Strade Così Queste Sono di Sola Andata Cioè Solo Senso Unico Va Così Possiamo Separare Il tutto Allora Mi serve Molta Zona Abitativa Ovviamente Lontani Dalla Zona Industriale Dobbiamo Stare Quindi Ti faccio Una bella Zona Abitativa Poi in caso Poi in caso Possiamo Aggiornare Qua Ma almeno Non mi rompono Non mi rompono Le scatole Ora Stiamo rendendo Questa strada Principale Una strada Molto Importante Qui Dobbiamo Mettere Una rotonda Perché Questa Sarà Una strada Molto Importante Qui Passerà Un mucchio Di traffico Tra un po' Ok Allora Vediamo se possiamo mettere Qualche altra Industria Perché Mi pare Che Allora C'è una bella Zona Qua sotto E se non ricordo male A noi Mancava Ancora Parecchie Carote O anche Roba Magari Da vendere Non è che Pagare per esportare Qualcosa Quindi Potrei Non lo so Dipende Quello Che si può Fare qua Perché Minerali Do stanno I minerali Ah Caspita Mi stai a dire Che abbiamo Una bella Zona mineraria Qui dove Sto costruendo Le case C'è una zona Di minerali Lì Accidenti Ok C'è una zona Mineraria Che fanno La sfrutto Allora Qui Le cose Cambieranno Qui Non si può Fà così Via Sparite Ok E la Sfruttiamo Raga Che vogliamo Fa No Fino a qua Non posso Ok Ok So che Non so Contenti Ma Se deve Sfruttare Ora In teoria Noi Quindi Minerali Minerali Del tipo Questi Mi pare Minerali Metallici Ok Hanno iniziato A piazzare Qualcosa Beh si Produzione 1 Ah Eccolo qua E' partito Ok Vabbè All'inizio parte Esagerato Poi si Sistema Un po' Poi è da Vedere Dopo Ok E' partito Bene E' partito L'escavatore Qua E' partito Quindi Minerali Metallici Se parte Sfruttiamo Sfruttiamo Le zone Dove possiamo Mettere Quindi Estrazione Di prodotti Qui potrei Fare cotone Che me ne Manca E sai Cosa Compriamo Sta zona Quindi Mi servirebbe Cotone Ci vuole Una strada No Non me l'ha Piazzato Bene Mannaggia Lui Ogni tanto Questo Si bug Ora E' giusto Ogni tanto Pia Si bug Ok Ah no Ancora No Non mi posso Allargare Più di così Ok Così Quindi Cotone Anche Quello Le case Ancora Loro Hanno Una certa Richiesta Devo dire Ancora Hanno Una Abbondante Richiesta Ho messo Strade Molto Larghe Devo Dire Non c'era Tutta Sta Necessità Di Mettere Strade Così Larghe Vabbè Ormai L'ho Fatto Diciamo Allora C'è Forte Richiesta Di Casa Chiaramente Facendo Una zona Abitativa Qua Dovrò Aggiungere Servizi E roba Varia È Normale Ma Al momento Lasciamo Che fanno Le case Allora Nei Trasporti Che cosa Ho Sbloccato Vabbè Sì Le navi Giusto Allora Mettiamo Le fermate Almeno Del taxi Così La gente Almeno Hanno Una Fermata Del taxi E Anzi Se ne Posso Mettere Pure Qualcun'altra Zona Lavorativa Magari Una Qua Una Qua Un'altra Qua Ok Abbiamo Qualche Zona Taxi Ok Allora Dunque Qui Purtroppo Però Ancora Non è Non lo so Se mai Si risolverà Il problema Dell'inquinamento Qua È un grosso Problema È un Grande Problema Comunque Qua È pulito E ci si può Costruire Ancora C'è una Enorme Richiesta Di case E allora Facciamo le case Normali Per ora Vogliono Quelle La richiesta Di case Da paura No Si arriva Troppo Lontano Ma quante case Volete La richiesta La richiesta Delle case È mostruosa Vabbè Per ora Lasciamo che Costruiscono Ovunque Tanto Che me Frega Poi Quando serve Li famo Spostare Quando poi Serve Li faccio Spostare Per ora Almeno Si comincia Ad avere Un po Qua di Case Insomma E qui Ci sarà Inquinamento Atmosferico Lo so Questo è Un grosso Problema Effettivamente Qui è un problema Per ora Pazienza Allora Quindi Come stiamo Combinati Con le produzioni E la miseria Quanto cotone Che facciamo Tantissimo Ok Vabbè Stiamo a produrre Di tutto E di più Ci vorrebbe Altra produzione Di uova Mi hanno detto Che per le uova Posso metterlo ovunque Non ci vuole Una zona particolare E allora Non lo so Sinceramente Ma Perché non è che Mi stanno a rimanere Chissà quante zone Dove mettere le cose Se lo piazzo qua Per ora Ah ma Qui non mi serve La rotonda Allora Se vogliamo Per ora Metterle qua Le galline Meglio di niente Ok E ci abbiamo Anche le galline Così Per ora Qua produciamo Allora Mo stiamo a produrre Moltissimo Quindi adesso Potremmo anche Mettere La nave Adesso Adesso stiamo A produrre Tanto Cosa abbiamo Sbloccato Servizi stradali Deposito Manutenzione Stradale Condizione stradale Cattiva Eh Devo mettere Questo Deposito Manutenzione Stradale Perché le strade Si rovinano Quindi È necessario Mettere uno Di questo E Lo andiamo A mettere Queste che Caspita È zona Industriale Oh Potrebbe Essere Si Mettiamolo Qua Si può Aggiornare Potenziamento No Per ora Va bene Così Manutenzione Stradale Ok Allora dunque Devo andare Nei trasporti Nave Questo è il porto Normale A me serve il porto Mercantile Navi Navi merci Allora Qui passa Ok Qua c'è un piccolo problema Lo dobbiamo mettere qua Ci vuole una strada E qui la strada Mo come Ah si Ok Per ora Magari mi accontento Di una strada Normale Vediamo poi Che succede Se io per ora Ci metto Una normalissima strada Non è una grandissima idea Devo dire Però al momento Ci si può accontentare Vediamo che succede Poi Chiaramente Ci sarà molto traffico Ma Al momento Vediamo Non c'è corrente elettrica Come mai No c'è la corrente elettrica Elettricità insufficiente Strano Nessun collegamento Si ok Quello lo so Strano che Non c'è corrente Ah beh Effettivamente è vero Ci sono problemi Con la corrente elettrica Che succede qua Ah ho capito Qual è il problema Il problema è Che abbiamo Sovraccaricato Il cavo elettrico Il cavo elettrico Non ce la fa A reggere Tutto da solo Quindi praticamente Questo cavo qua Fa fatica Quindi l'ideale è Eventualmente avere un altro cavo Magari avere un ulteriore cavo Oppure Meglio ancora Se usiamo Il sistema Che utilizzavamo Prima Il trasformatore Trasforma L'alta tensione In tensione Bassa Se io metto Uno di questo Magari Lo piazzo Tipo qua E ci collego Poi Questo In teoria Dovremmo risolvere Il problema elettrico Così Si dovrebbe risolvere Sì Risolto Perché il cavo Quello Non regge Tutta quella corrente Quindi adesso La corrente Viene smistata Anche da questa stazione Quindi Molto meglio Quindi abbiamo risolto Il problema elettrico Dobbiamo Un attimino Risolvere Il problema Che abbiamo Qua Problema Diciamo Canale navigabile Medio Dobbiamo Collegarci Qua E Non so Se mi posso Tipo andare A collegare Ok Allora Adesso Andiamo a creare Una rotta Per Per le navi Quindi Partendo Da qua Vado A collegarmi Qua E poi si torna indietro E abbiamo fatto un percorso Mo Questo Lo voglio Mandare Da quest'altra parte Quindi collegato Con un'altra città Bene Mi pare Mi pare Che non c'è Altro Quindi Mo Abbiamo Il porto Mercantile Collegato E Automaticamente Quindi Mo Arriveranno Pian pianino I camion Con Con le merci Il problema E Che Le merci Si trovano Qua sotto In teoria Presumo Quindi I camion Devono Attraversare Tutta la città Per andare Nel porto Questo è il problema Perché mi pare che L'autostrada La vera autostrada È solo questa Questa è l'autostrada L'autostrada Arriva fino a qua Ci voleva che L'autostrada Doveva Proseguire E Doveva andare Là sotto Penso che Questo è l'ideale Magari lo facciamo Poi Nel Nel Nella prossima volta Perché L'autostrada È sempre meglio È quella che Dà meno problemi Queste sono strade Che danno più problemi Ci vuole Un collegamento Ad autostrada Perché Nell'autostrada Vanno più veloci Più veloci Le macchine Quindi Diciamo che I camion Probabilmente Preferiranno L'autostrada Per trasportare Le merci Piuttosto che Trasportare Su questa strada Qua Anche perché Qua il traffico Si imbottiglia Facilmente Comunque Vediamo Già Inizia a vedersi Qualche barca Ok Perfetto Quindi da qui Noi Esportiamo Quello che Produciamo E per ora Ci stanno I mobili Dentro Mantenimento 53.000 Al mese Beh Neanche poi Così Tanto Ok Efficienza Scarsa Però Mi sa che È colpa Dei servizi Servizi Trasporti Se io Dovessi Aumentare Ok Spendiamo Molto E guadagniamo Poco Se io Aumento Un pochino L'efficienza Pago ancora Di più Però Chi lo sa Aumenta Questo tipo Di efficienza Vabbè ci vorrà Tempo Prima che Ingrana Che poi C'è anche Il discorso Che appunto È colpa Colpa che Per arrivare qua C'è solo Questa stradina Non è proprio Comoda Ok Bene Quindi Ci abbiamo Il porto Ci siamo Allargati Abbiamo aumentato Un po' Abbiamo Aumentato Le case Siamo quasi Arrivati a 10.000 Abitanti E soprattutto Stiamo a produrre Tantissimo A parte Le galline Qui si mangiano Qui mangiano Un mucchio di uovo A quanto pare Va bene Ragazzi Ho finito Il tempo A mia disposizione Quindi oggi Abbiamo messo Il porto E speriamo Presto che qui Magari L'inquinamento Se ne va Ma ho la sensazione Che non lo so Se c'è un modo Per togliere Sto benetto Inquinamento Non lo so In che modo Si può togliere L'inquinamento Industrie Riduce la sua velocità Da qui Allora Riduce Inoltre Il rendimento L'inquinamento Inizia a dissipare Dopo la rimozione Della fonte Ma ci vuole Molto tempo Ah Ah ok Ci vorrà un mucchio di tempo Prima che risolviamo Sto problema Qui dell'inquinamento Ci vuole solo tempo Molto tempo Pazienza Non c'è neanche un sistema Per purificare il terreno Un po' più in fretta Non c'è niente A quanto pare Però posso iniziare A mettere qualche casa Tipo qua Che non è molto inquinato Qui non è molto inquinato Quindi ce lo possiamo permettere Però almeno ci allarghiamo Un po' Va bene ragazzi Conclude il gameplay Che il tempo è volato Spero vi sia piaciuto Come sempre Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione In su Ci becchiamo ragazzi Ciao alla prossima Ciao alla prossima